Lo scorso weekend ad Agropoli, presso il centro sportivo Rollerball, si è svolto il primo Memorial Pietro Bello. Hanno partecipato al torneo quattro squadre, composte da due formazioni che militano nel campionato di Serie D, calcio a 5, e due squadre formate dagli amici di Pietro. Alla premiazione ha partecipato il consigliere Franco Di Biasi, l'organizzatore Salvatore Sardo e la famiglia di Pietro Bello. Il torneo è stato vinto dal Real Moio. Abbiamo voluto ricordare una persona speciale, hanno dichiarato gli organizzatori. Pietro amava giocare a calcetto, era una persona serissima, degno interprete dei valori umani e sportivi, marito fantastico, padre immenso, figlio adorabile, fratello divino, amico di sempre e di tutti. Sempre con il sorriso non si arrabbiava mai, sempre disponibile, sempre tra la gente. Lo ricorderemo ogni anno con rispetto e stima attraverso questo Memorial a lui dedicato.